Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che è da sempre è vicina a ciascuno di noi, fratelli. E il Signore manifesta la sua benevolenza, la sua grazia, innanzitutto col dono della vita che ci concede. Noi siamo per la sua. E Dio ci ama e ci rispetta, anche se abbiamo dei difetti, se siamo caduti, anzi, un motivo in più per amarci, Lui non ci rinnega, ci dà i suoi benefici. Vuole che il suo Santo Angelo ci accompagni e che il suo spirito, cioè la sua vita, penetri nei nostri cuori, entri nella nostra esistenza, per cui noi non viviamo più da soli, ma viviamo con Lui. Per questo Dio ci ha creati, per camminare con Lui, vivere eternamente con Lui. E ci addestra su questa terra a combattere, a vincere le battaglie. Ricordiamo le parole di Santa Giovanna d'Arco. La gloria si dà a chi ha combattuto, non a chi ha fuggito. E il Signore ci addestra, per purificarci, per renderci in tutto simile a Lui, fedeli nell'amore, perseveranti nella carità, nella comunione gioiosa e santa. Vedete quando i matrimoni sono in crisi perché non si riesce a comunicarsi l'uno all'altro, a vivere nell'amore vicendevole. E Dio, fratelli, questo desidera da noi. Allora ci mette alla prova, ci addestra, e anche se siamo caduti, ci rialgia, ci risolleva, fino a che diventiamo perennemente uniti a Lui, da un patto d'amore che va al di là dei secoli, che dura in eterno. Allora tu sai, fratelli, tu sai, sorella, che sei oggetto di quest'amore, di questa attenzione. Sei tempio dello Spirito Santo. Sei dimora di Dio, tempio di Dio. Rende il Signore, manifesta la sua presenza, donandosi, ma ti partecipa anche i doni che Lui possiede. Ti partecipa innanzitutto il dono dell'amore, ti partecipa il dono della carità, il dono della pace, ti partecipa alla sua sapienza. Il mondo crede di essere molto sapiente, ma quando stoltezza, vedete per esempio come i piaceri ci conducono a cercare soddisfazioni, che tante volte tornano al nostro danno. Chi fa una vita semplice è destinato a vivere meglio. Più noi ci facciamo schiavi delle passioni, delle soddisfazioni, dei piaceri, più svuotiamo noi stessi. Per questo Gesù ha scelto la via della semplicità nascente a Betremme. Bene, quello Spirito del Signore è su ciascuno di voi e vi benedice. E lo Spirito Santo opera anche nelle cose materiali, provvedendo da ciò che è giusto e necessario al momento giusto, il Signore sa donare. Ma perché non lo fa con tutti? Il Signore lo fa con tutti. Non tutti siamo in grado di poter accogliere questa benevolenza di Dio, perché siamo pieni di altre cose. Dio invece vuol dimorare pienamente in noi. Ricordate San Francesco? San Francesco ha bisogno di prezzemolo, che sono fratici di prendere il prezzemolo, ma lo stessi cani dicendo che era notte e non poteva trovarlo. E San Francesco dice apri la porta, stendi la mano, la prima erba che trovi, portamela, e gli portò il prezzemolo. Ma se uno ha bisogno di un pane, volete che il Padre gli dia un sasso? Vedete, fratelli, quando siamo distanti dalla bondà di Dio, che è dentro di noi, e il Signore questo ci chiede non di far miracoli per Lui, ma di lasciarci amare, di lasciarci amare. Questo chiede il Signore a noi. E qual è il primo gesto significativo di accoglienza dell'amore del Signore verso di noi? Accettiamo che Gesù ci ama fino a morire. E noi gli diamo il nostro peccato, le nostre colpe, gli diamo la nostra esistenza, ferita, e Lui la prende su di sé. Vuol pagare Lui per noi. Ma sapete quale gioia gli diamo, fratelli, quando accettiamo che Gesù, lo accettiamo per la fede, si carichi del nostro peccato? È la sua gloria davanti al Padre. È la sua gloria, perché caricandosi del nostro peccato, riporta vittoria sul maligno, e ci salva. E quindi il suo trofeo siamo noi, quando noi siamo redenti, siamo il trofeo di Gesù, che però ci conquista non con la forza, non con la violenza, né con l'inganno, ci conquista con l'amore. Ci dice lasciati amare da me, arrenditi al mio amore, e accetto che io dia la vita in croce per salvare te. Spirito Santo, questo noi ti chiediamo. Spirito di Dio, scende su di noi, rivelaci quest'amore del Padre, che in Gesù Cristo si è reso visibile e venuto fino a noi. Spirito Santo, siamo tanto lontani dal progetto che dia su di noi, di darci una vita da figli, di farci dimorare in questo mondo come figli, come pellegrini che camminano verso la Patria, mentre noi ci perdiamo dietro tante cose. Spirito Santo, irrompe la nostra vita, irrompe nella Chiesa, cambia i cuori, manifesta la gloria del Padre, in Gesù Cristo, Signore nostro. Spirito Santo, tu hai preparato il cuore di Maria e ne hai fatto il Tempio della gloria di Gesù, la tua santa dimora, e lei, i tuoi posti, la tua sede, e attraverso di lei hai generato Gesù Cristo questa vita terrena e attraverso l'amore materno di Maria ogni giorno attira i nuovi figli a Gesù Cristo. A Gesù sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Spirito Santo, noi ti chiediamo in questo momento di sciogliere quanti stanno seguendo questo incontro e si sentono legati da spiriti maligni, da spiriti malattia, da spiriti tentatori che deviano e inducono alla corruzione, all'inganno, al peccato. Spirito Santo, sciogli questi fratelli, queste sorelle, tu non stai guardando la gravità dei loro peccati, stai guardando la grandezza del loro dolore e del danno che stanno subendo. E il cuore di Gesù fremati con passione e Gesù ti invoca e ti ordini di entrare in questi fratelli perché siano liberati. Spirito Santo, guarisci questi cuori malati, riunisci i cuori degli sposi che fanno fatica a incontrarsi, abbate tu le barriere che impediscono la comunione gioiosa e santa. che c'è via e ti preghiamo di mezzo alla Chiesa, dalle nostre congregazioni, dalle nostre comunità, dalle nostre assemblee, ogni spirito di dissolutezza, di malizia, di superstizione. Spirito Santo, fa di ciascuno di questi fratelli che ascoltano la tua dimora, ricolmali di salute, ricolmali di benedizioni, da loro il dono della sapienza e della scienza, il dono della pietà, del santo timore, guida i loro passi, le loro scelte e ti preghiamo, guida anche l'umanità intera a tornare a Gesù, Signore e Salvatore nostro, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E su tutti voi, fratelli, scenda la benevolenza del Signore, vi ricolmali di Spirito Santo, vi rinnovi, soccorre in modo particolare lo Spirito Santo e quelle persone che stanno soffrendo, che sono scoraggiate, che non vedono il futuro. Dio è con voi e la pace del Signore vi accompagni sempre e l'amore materno di Maria sia con tutti voi. Amen.